Mi perdoni, padre, perché ho peccato. Che problemi ci sono sul set? Hai dimenticato che film stiamo girando? Motore, azione! Signora Pietà. Sono successe un sacco di cose quando hanno girato film come Il Presagio o L'Esorcista. E il tizio che tuo padre ha sostituito? Ogni cosa è maledetta. Con la voce di mio padre. Va tutto bene. Ok, ci siamo. Come sono finito qui? Hai ancora i vuoti di memoria? È una cosa diversa. Oddio! Non vale la pena salvarlo e tu lo sai. Padre, che cosa faccio? È normale avere paura. Abbi fede. Proteggere i suoi figli. Quando succede, scappa. Non! Non! Non!